Musica Durante la festa dell'Uva di Masera, 45 anni, arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Nedi riprende la scuola, al liceo Cavalieri di Verbaglio un importante progetto futuro, l'avvio del liceo sportivo. Dati ente bilaterale turismo, cala il commercio, aumentano i servizi, lieve flessione per il turismo, questo è il quadro delle aziende del VCO. Ieri sera l'ultimo concerto di Streza Festival che ha chiuso la stagione 2023 con un evento dedicato a Mozart. Nella nuova puntata di Laghi e Monti, il raduno internazionale dello spazzacamino che si è tenuto in Valle Vigezzo. Prendono il via questa domenica i campionati di calcio dilettantistico, tornano domenica sport e dilettanti per dire. Ben ritrovati a una buona serata dalla redazione di VCO Notizia. La cronaca in apertura di telegiornale con un 45enne ossolano arrestato a Masera per resistenza a pubblico ufficiale. Stamattina la convalida dell'arresto. Festa dell'Uva di Masera. I carabinieri della compagnia di Domodossola, nel corso della notte, hanno arrestato un uomo di 45 anni, residente in Ossola, per resistenza a pubblico ufficiale. Ubriaco e molesto nei confronti degli altri avventori, alla vista dei militari ha provato ad aggredirli. I militari della radiomobile sono subito intervenuti nel corso della festa, su segnalazione proprio di alcuni avventori rispetto all'uomo ubriaco e molesto. Inizialmente i militari hanno invitato il soggetto ad allontanarsi. La persona, in tutta risposta, ha iniziato ad inveire contro gli stessi, passando poi alle vie di fatto, scagliandosi violentemente contro di loro e rendendo necessaria la sua immobilizzazione. L'uomo è stato così dichiarato in stato di arresto. Questa mattina si è tenuta l'udienza davanti al giudice. La PM Anna Maria Rossi ha chiesto la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, perché è soggetto con precedenti specifici, dedita all'uso di alcol e che non si controlla nelle azioni quando è alterato. Davanti al giudice di Verbania, l'uomo si è scusato per quanto avvenuto, ammettendo di non ricordarsi nulla a causa dell'alcol. Due giovani, uno minorenne, sanzionati dalla squadra volante della questura del VCO lo scorso giovedì per uso personale di sostanza stupefacente, sono stati trovati in possesso di hashish. Durante un controllo a piedi nel centro di Pallanza, gli agenti hanno notato un gruppo di ragazzini e, allertati dall'odore pungente di sostanza stupefacente, hanno trovato addosso a un giovane ucraino di 20 anni una sigaretta artigianale contenente hashish, sequestrata nella stessa giornata. Ma intra due giovani con fare sospetto hanno tentato di nascondersi. Agli agenti controllati sono stati poi rinvenuti addosso a un minore, un pezzo solido di sostanza stupefacente tipo hashish. Infine, venerdì pomeriggio, fermato un trentenne italiano alla guida senza patente perché gli era stata ritirata per essere stato trovato alla guida di un veicolo in possesso di sostanza stupefacente, per lui verbale e sequestro del mezzo. Lunedì riprende la scuola, liceo Cavalieri di Verbagna. Grandi novità, vi abbiamo detto, nelle precedenti edizioni del nostro telegiornale dei lavori svolti e in programma. Ora con la preside Cinzia Sanmartano parliamo di un importante progetto futuro, l'avvio del liceo sportivo. La provincia sta per ultimare i lavori di adeguamento sismico che per noi hanno significato anche una buona collaborazione con loro relativamente anche a un progetto di tinteggiatura che non è semplicemente una tinteggiatura a conclusione dei lavori ma è la realizzazione di un progetto psicocromatico su progetto di una color designer volto proprio a intervenire sul benessere del personale degli studenti a scuola. A questo poi naturalmente si aggiunge un inizio in piena regola dell'anno scolastico con anche non solo il potenziamento dei progetti che abbiamo in essere ma anche stiamo lavorando a delle novità, a dei nuovi progetti. Ecco ci può svelare qualcosa, ad esempio si parla di un liceo sportivo per il futuro? Esattamente ci stiamo lavorando, naturalmente siamo in una fase avanzata di progettualità non abbiamo la certezza, gli step prevedono una presentazione in provincia e poi naturalmente dalla provincia passerà in regione. Nel momento in cui dovesse esserci la delibera regionale per noi significherà proprio l'attivazione di un nuovo indirizzo liceale che però si innesta con estrema coerenza nella nostra offerta formativa perché il liceo sportivo è un liceo scientifico ad indirizzo sportivo e noi abbiamo proprio un indirizzo di liceo scientifico. Le condizioni per la richiesta di un tale indirizzo ci sono tutte non solo dal punto di vista strutturale perché noi abbiamo un bellissimo palazzetto dello sport che è più che una palestra, ci sono dei lavori che la provincia ha già messo in cantiere di rifacimento dell'area esterna che prevede anche la realizzazione di una pista di atletica e di un campo di pallavolo e di pallacanestro esterno ma in più noi abbiamo già in essere tutta una serie di accordi di collaborazione con società sportive che sono molto vicine alla scuola e che rispondono ad un'utenza che ha già un interesse in questo senso perché i nostri studenti atleti, oltre agli ex ma anche agli attuali sono tanti che sono inseriti all'interno del progetto ministeriale sugli studenti atleti di alto livello e molti fanno anche attività agonistica sia a livello regionale che nazionale quindi è anche un modo per rispondere ad un interesse dell'utenza ma anche un arricchimento della nostra offerta formativa Cala il commercio, aumentano i servizi, lieve flessione per il turismo questo è il quadro delle aziende del VCO secondo i dati presentati dall'ente bilaterale del turismo nei giorni scorsi Al 31 dicembre 2022 le aziende attive del Verbano Cusiossola erano 14.815, 9.876 delle quali operanti nel terziario il 18,3% di quelle presenti in questo settore in tutto il Piemonte Nord è quanto emerge dai dati presentati nei giorni scorsi dall'ente bilaterale del turismo del VCO nonostante il timido dinamismo rilevato nel corso del primo semestre 2022 il tessuto imprenditoriale terziario nei 12 mesi ha mostrato una flessione del meno 0,8% corrispondente a meno 78 unità locali nonostante il trend in atto ormai da qualche anno anche nel VCO restano prevalenti le forme individuali che rappresentano il 48,7% del totale seguite dalle società di capitali e dalle società di persone da un punto di vista settoriale la crescita di attività imprenditoriali avvenuta nel corso del 2022 nei servizi più 1,2% si è contrapposto il calo del commercio meno 2,7% ovvero meno 107 unità eppure in maniera ben più limitata quello del turismo meno 0,6% 14 unità per il commercio la riduzione emerge anche dall'esame del trend 2018-2022 meno 6,4% mentre i servizi e turismo mostrano una dinamica positiva in tale periodo rispettivamente pari a più 3,3% e più 3,1% relativamente al commercio l'ingrosso vede un calo dello stock pari al meno 3,1% mentre gli esercizi al dettaglio cedono il meno 2,8% corrispondente a ben meno 71 unità in linea con il trend complessivamente negativo che si è avviato negli scorsi anni sul bilancio negativo del dettaglio ha pesato soprattutto il comparto moda fashion seguito da quello alimentare il settore turistico del VCO dopo la ripartenza del 2021 ha segnato una battuta d'arresto nel corso del 2022 meno 0,6% sintesi di un bilancio che ha visto da una parte un aumento di alberghi e strutture ricettive dall'altra un decremento dei bar e attività di ristorazione e pure in minima parte delle altre attività turistiche al 31 dicembre 2022 c'erano 2.388 unità locali attive nel VCO nel 2022 sono cresciuti su ritmi simili i servizi alla persona i servizi alle imprese dal punto di vista occupazionale l'area del VCO ha registrato un aumento della domanda di lavoro della misura del 4,8% ovvero più 1101 in valore assoluto rispetto al 2021 arrivando a coprire il 19% dei contratti attivati in Piemonte prossima strategia di sviluppo locale del GAL Laghiemonti in fase di definizione nuovi incontri la prossima settimana uno con gli operatori del turismo e l'altro con quelli del settore agricolo il GAL dopo i primi incontri svoltisi nel mese di luglio e agosto l'ultimo al quale si riferiscono le nostre immagini era dedicato agli operatori della filiera del legno proseguirà nei prossimi giorni l'attività di animazione territoriale e il confronto con gli operatori dei settori economici interessati dalla prossima strategia di sviluppo locale del GAL Laghiemonti in fase di definizione martedì 12 settembre alle ore 15 presso la sala Ravasio della provincia del Verbano Cusiossola il GAL incontrerà le imprese del settore turistico mentre mercoledì 13 settembre alle 10.30 a Domodossola presso la sede dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola i produttori agricoli e le aziende di trasformazione di prodotti agroalimentari per maggiori informazioni potete chiamare gli uffici al numero 0 324 48 17 56 oppure visitare il sito www.gallaghiemonti.it sarà possibile partecipare all'incontro in presenza o online iscrivendosi all'apposito modulo che trovate sempre online voltiamo pagina gran finale di Stresa Festival con una serata al Palazzo dei Congressi tutta dedicata a Mozart e si chiude così l'edizione 2023 della Kermess ieri sera al Palazzo dei Congressi di Stresa il gran finale di Stresa Festival serata interamente dedicata a Mozart le due sinfonie proposte numero 39K 543 e numero 41K 551 Jupiter sono le ultime scritte dal compositore insieme alla numero 40K 550 nell'estate 1788 la commissione delle sinfonie resta oscura anche se si ipotizza fossero destinate a quelle che allora erano chiamate accademie Mozart era in un momento di grande difficoltà economica e dovette lasciare la casa viennese per trasferirsi nei soborghi stupisce la rapidità della scrittura di ben tre capolavori nel breve spazio di qualche settimana considerando oltretutto che nei successivi tre anni che lo separavano dalla prematura morte Mozart non ebbe la soddisfazione né di ascoltarle né di dirigerle nonostante le sfavorevoli vicissitudini il grande salisburghese ci ha donato queste pagine musicali di altissimo valore formale e artistico che ancora oggi sono parte del repertorio di un'orchestra classica il programma proposto al pubblico anche la meravigliosa sinfonia concertante K364 dove i due solisti di violino e viola rispettivamente Jolien Chauvin anche la direzione e Adrienne Lamarca hanno dialogato con l'orchestra la francese Le Concert de la Loge in una memorabile e insuperata fusione Ultimo appuntamento con Aspettando Letteraltura domani domenica 10 settembre alle 18 a Trobaso nel cortile della chiesa parrocchiale Cristina Converso presenterà il suo libro Testimoni silenziosi, storie di alberi monumentali dalle 19.30 aperitivo con l'associazione La Gera e la Soms di Trobaso alle 21 sempre nel cortile della chiesa concerto con Roberto Bassa al pianoforte Davide Besana al violino con l'associazione Carlo Ravasenga di Druogno ricordiamo che il festival Letteraltura si svolgerà nella sua parte centrale dal 20 al 24 di settembre e siamo all'edizione 2023 del ballo debuttanti Lago Maggiore che è andato in scena a Villa Giulia a Verbania 13 le deb partecipanti come tradizione elette la debuttante dell'anno e le due damigelle allora vediamo di chi si tratta a Villa Giulia a Verbania è andata in scena la dodicesima edizione del ballo debuttanti Lago Maggiore di Ape VCO della Presidente Giovanna Pratesi 13 le giovani protagoniste debuttante dell'anno 2023 è stata eletta Sofia Abbinanti, 18enne siciliana con lei le due damigelle d'onore l'abruzzese 15enne Emilie Petronti e Eleonora Marrazzo della provincia di Milano, 18 anni assegnato un riconoscimento anche a Giulia Sarnataro 24enne verbanese testimonial della Onlus a Marene di Verbania 4 premi speciali a Elena Panigatti Yasmin Peralta e Chiara Bassoli della provincia di Novara e a Noemi Francesca De Luca della provincia di Milano l'edizione 2023 ha puntato i riflettori sulla violenza sulle donne le debuttanti infatti durante la serata di gala hanno indossato scarpe rosse di Cavalieri una scappetta rossa come bottoniera un segno di quanto il ballo debuttanti Lago Maggiore sia sensibile a queste dolorose e irrisolte tematiche 3 le Onlus che hanno affiancato l'evento We Will Care che si occupa di malati oncologici Amarena impegnata nella sensibilizzazione sulle patologie renali e Avis la presidente Pratesi commenta con orgoglio il traguardo della dodicesima edizione ottenuto nel rispetto della tradizione storica spiega ma adeguato ai tempi odierni rivalutando quegli aspetti oggi forse andati un po' perduti che riteniamo siano una ricchezza e abbiano un valore senza tempo ciò ha permesso di conseguire consensi ed estare l'interesse e l'attenzione di un pubblico sempre più numeroso la serata condotta da Giovanna Pratesi, Mirko Zullo e Gina Moulet ha visto diverse apprezzate esibizioni e la partecipazione di autorità e tante ex deb prosegue fino a lunedì la festa dell'uva a Masera tra gli eventi club della domenica la sfilata pomeridiana e i fuochi d'artificio una bella novità è in programma per la serata di lunedì la novantasesima edizione festa dell'uva sta andando bene, siamo partiti molto bene c'è molta affluenza, siamo contentissimi abbiamo avuto anche molta richiesta da parte dei volontari per venire a lavorare con noi e da presidente mi riempie il cuore di gioia sapere che c'è tanta gente che vuole venire a lavorare con noi domenica sera ci saranno i fuochi domenica di giorno abbiamo un palinsesso molto pieno, molto ricco ci sarà lo sport corner con tennis, basket, la parete d'arrampicata la tradizionale sfilata a cui teniamo tantissimo che quest'anno siamo riusciti a riconfermare ci sarà il giro gallino gastronomico che l'anno scorso è andato molto bene per la scoperta delle frazioni i fuochi appunto la sera e ci sarà la baby dance per i bambini la caccia al tesoro poi ci sarà il liscio la sera, il DJ set diciamo che abbiamo cercato come sempre di dare diverse opportunità per tutte quante e ovviamente la nostra solita offerta enogastronomica che è il nostro fiore all'occhiello lunedì sera abbiamo una piccola novità per chi vorrà venire a farci compagnia anche lunedì che sarà nei ciuchi senza frontiere abbiamo deciso di fare questo piccolo cambio e provare a creare una nuova tradizione quindi abbiamo modificato il programma al solito e invece nel paglio degli aseri ci saranno dei giochi gogliardici organizzati insieme al gruppo Giovanni Antigorio è riconfermata sempre la mostra alla chiesa di Santa Bondio insieme a Wide Art VCO per cui diciamo che avete solo l'imbarazzo della scelta Black Inside e Free Voices Gospel Choir insieme in concerto benefico domenica sera alle 20.30 al Teatro Sociale di Omenia l'intero ricavato verrà devoluto alla squadra Gli Invincibili di Omenia per l'acquisto di un pulmino che consenta loro di spostarsi per le trasferte Gli Invincibili crescono sono diventati davvero un po' più adulti hanno cambiato il colore della maglia ma bisogna dire che l'entusiasmo è rimasto sempre lo stesso Adesso speriamo un progetto che ci sarà domani sera al Teatro Sociale di Omenia ci sarà un concerto molto particolare il quale tutto ricavato sarà devoluto a noi Invincibili per l'acquisto del pulmino Domani sera, domenica, al Teatro Sociale questo concerto con due gruppi gospel ma anche perché crescendo sono cambiate le esigenze non dobbiamo dimenticare che voi avete ragazzi e anche ragazze per la verità che arrivano un po' da tutto il Verbano Cusiossola anche dalla Nuovarese per cui avete l'esigenza di avere un pulmino per poterli andare a prendere, per poterli gestire Assolutamente sì il nostro scopo è quello di avere il pulmino per andare anche a recuperarli per gli allenamenti del sabato abbiamo ragazzi che arrivano da Pettenasco, Verbagna Borgo Manero abbiamo anche un progetto con la Provigiezzo abbiamo fare una collaborazione con la Provigiezzo abbiamo gli altri ragazzi del CIP 7-8 ragazzi nuovi che dovrebbero aggregarsi a noi e questo ci crea l'esigenza di avere il pulmino per andare a recuperarli, portare gli allenamenti e poi anche portarli ai vari campionati, tornei eccetera eccetera siamo iscritti al campionato di CPS Lombardia che è un campionato paraolimpico a tutti gli effetti ci siamo iscritti a questo campionato per cercare di portare questi ragazzi a fare un campionato proprio vero e proprio per il discorso di socializzare sempre di più con altri ragazzi con altre squadre e altre realtà della Lombardia La nostra programmazione è il concerto di Nicola Pankoff alla Rocca di Arona su VCO Azzurra TV nell'appuntamento della domenica con le 7 note la serata era stata organizzata dalla Fondazione Salina Musiche da un folclore immaginario il concerto con Nicola Pankoff in quartetto dello scorso 31 agosto alla Rocca di Arona in onda su VCO Azzurra TV nel classico appuntamento dedicato alle 7 note la domenica alle ore 21 una serata organizzata dalla Fondazione Salina per ricordare Maria Rosa Bollini in Salina mancata lo scorso maggio il musicista e pittore si è esibito con Elena Lombardo al violoncello Simone Morellini alla tromba e Claudio Guida al saxofono Oltre 600 persone hanno gremito il Parco della Rocca Aronese per la serata in un'atmosfera di grande suggestione per il panorama ma anche per la proiezione delle opere di Pankoff sulle antiche mura della fortificazione il concerto vi aspetta dunque domenica sera alle 21 e ancora lunedì alle 13 su VCO Azzurra TV e siamo alle anticipazioni della nuova puntata di Laghi e Monti che vi aspetta in tv come sempre alle 13.30 alle 19 e alle 23 la domenica La nuova puntata di Laghi e Monti vi porta in Valle Vigezzo in occasione del raduno internazionale dello Spazzacamino edizione numero 40 sono oltre 1200 i rusca che sono arrivati in valle per partecipare a una fitta tre giorni di eventi 24 le nazioni rappresentate e allora Laghi e Monti vi racconta la storia degli Spazzacamini vi mostra la spettacolare sfilata andata in scena nel centro storico di Santa Maria Maggiore ma vi racconta anche la storia del piccolo Faustino Cappini c'è un monumento che lo ricorda e lo omaggia nel comune di Malesco e il raduno ha fatto tappa anche lì e poi la storia dell'emigrazione vigezzina e dei rusca è raccontata qui nel parco di Villa Antonia dove c'è proprio il museo dello Spazzacamino naturalmente visiteremo anche quello abbiamo incontrato anche il presidente dell'associazione nazionale Spazzacamini che ancora oggi porta avanti il mestiere che è stato prima del papà e prima ancora del nonno Laghi e Monti vi aspetta come sempre la domenica 13.30 19.23 VCO Azzurra TV e ricordate anche di seguirci sui nostri social vi aspetto la pagina sportiva prendono il via questa domenica i campionati di calcio dilettantistico tornano quindi domenica sport nella sua versione classica e dilettanti per dire che vi aspetta il lunedì alle ore 20.30 alla via domani il campionato di serie D debuti casalinghi per Ile Gozzano ed Ile Borgo Sesia i rosso-blu ricevono l'alba di mister Biassi i Granata affrontano la matricola albenga abbiamo lavorato bene in settimana il KO in Coppa è stato salutare i ragazzi hanno capito gli errori e ci hanno dato dentro sono soddisfatto mi aspetto una bella partita le parole di mister Schettino subito match club per la RG Ticino di scena sul campo della favorita alla promozione l'alcione Milano affrontiamo la corazzata del girone che ha una rosa ed un impianto tecnico rodato e collaudato noi però non andiamo a fare la comparsa vogliamo misurare il nostro livello attuale evidenzia il direttore sportivo della RG Alessandro Bratto si comincia anche in eccellenza promozione prima categoria debutto casalingo per il Verbagna all'Ostresa ed il Bulebel Inzago i bianco cerchiati attendono al Pedroli il Volpiano Pianese i Borromaici ad Arona sfideranno l'oleggio mentre la matricola del presidente Blasi se la vedrà con l'alpignano Pro Novara ospite del Cossato Accademia di scena a settimo contro la Pro Eureka in promozione il programma mette subito Pepe con il derby di liberazione tra Omenia e Juvedomo il Baveno grande favorita della vigilia alla Galli se la vedrà con il Cameri neopromosso il Briga a Roccapietra con la Dufurvarallo derby Novarese tra Momo ed Arona in prima categoria si giocano Crodo Piedi Molera Cannobiese Gravellona San Pietro e Sizzano Bagnella Siamo in chiusura VCOAzzurraTV.it e le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti grazie per essere state in nostra compagnia buona continuazione di serata e buona domenica Grazie a tutti Grazie a tutti